bella raga ciao a tutti nel commentone veneziano 32esimo turno siamo nel momento migliore della stagione siamo in forma e siamo a un punto dal ultimo posto per l'europa league però siamo a san siro e siamo contro l'inter quindi sarà veramente una partita dura andiamo fioi palermo inter proviamoci abbiamo ancora molte chance dentro l'europa league perché siamo vicini anche al sesto posto e quinto posto c'è potremmo arrivare anche in europa league diretti senza fare preliminari o cazzate varie grandissimo gol dell'inter 1 a 0 subito e il guaro la mette dentro iniziano un bellissimo di partita di bala pool di bala eric lamela perotti belotti non ci voleva questo gol subito attenzione palacio 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 gol dell'inter 2 a 0 shakiri punisce ancora al palermo siamo a un passo dell'europa league e ancora stiamo cadendo incredibile di bala di bala di rabbia era dura san siro lo sapevo di bala di bala incredibile 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 fallo svaldo non c'è più palermo gol di osvaldo partita orribile a san siro la mela la mela con la disperazione la mela niente niente oggi hanno deluso tutti peccato che sono tre punti veramente pesanti quelli che perdiamo oggi niente da fare rugani neanche rugani non ha fatto nulla oggi è mamma mia ora mi ha fatto uscire il portiere errore errore mio errore mio errore mio prince poldi 4 a 0 di bala la tira su per disperazione mamma mia ragazzi il big match siamo sempre a un punto dell'europa league e siamo contro la lazio che proprio la lazio ha un punto di vantaggio rispetto a noi questo è veramente il big big match se perdiamo questa è finita vai di bala di bala scatenato vai di bacio questa per noi è comuna finale dobbiamo vincerla puoi fare bene le ultime giornate attenzione di bala stiamo buttando via l'europa league kane kane non deve crossarla però kane ma dai peccato avevo l'occasione in casa katal di bala attenzione di bala nooo eh vabbè fatalità sbali tutti quanti adesso vai ancora di bala ancora un'occasione di bala di bala niente non siamo riusciti a segnare penso che ne registrerò tre oggi ne registro un'altra bravissimo lugani eh ci ha provato la mela niente da fare vediamo la classifica comunque ne registro sicuramente un'altra vediamo la classifica la lazio che è l'ultimo posto sempre un po sempre un punto siamo col verona 48 è dura per ormai ecco il quinto posto è impossibile ma ragazzi palermo udinese la classifica per fortuna è rimasta intatta che se sappiamo che il verona davanti e questo può essere un grosso problema niente l'ultimo posto veramente una lotta per europa league è meravigliosa come sempre sulle mie stagioni tutto sul filo di lana belotti merda dai fioi però sveglia una sconfitta ragazzi se non vinciamo questa sicuramente non andiamo in europa league bravissimo vai perotti vai perotti 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 l'ha messa deve anche uscire ma gol di perotti pesantissimo gol del pelo bravo perotti ho sempre quando devo fare i cambi pazzesco vai se bisogna tenere duro importantissima sta vittoria mamma mia che fatica però raga che fatica sto gioco bravissimo kane e niente si chiama dargli fiducia che è un poverino perché di bala un po che non segna non va bene se vuole vincere la classifica capo cannonieri ma di bala sventiscimi con l'euro gol molto bene d'armiana no al darmi sbaglia bel intervento qua nel palermo ancora intervento strepitoso di lamera cain e che ne di una lentezza imbarazzante no bravissimo ma è portare un bel rinvio lungo catalli errore di catalli ma la palla recupera il kata deve ancora migliorare sui passaggi ma nei contrasti è il numero uno no ancora recupera l'udinese mancano dieci fottutissimi minuti con il cuore si vincano queste partite con il cuore dai però ok roba nostra 86esimo darmian vai darmi il darmi per vasquez madonna vasquez è appena entrato vergognoso recupera di bala 89esimo roba nostra catalli catalli tienila vai catalli vai catalli prova il tiro catalli dai che andiamo a casa si grandissima vittoria ci è andata bene adesso speriamo nel crollo del verone della lazio crollo del verone della lazio dai crollo del verone crollo della lazio siamo per la prima volta in europa league abbiamo anche due punti di vantaggio incredibile raga un saluto dal quendo veneziano ciao ciao